Ieri il primo contatto con il sintetico dello Stadio Miramare, oggi il BIS. Finalmente il Manfredonia ha avuto la possibilità di svolgere per la prima volta in questa stagione una seduta di allenamento nella propria casa. La lunghissima attesa è terminata. Ora l'interrogativo è il seguente. Quando arriverà anche il momento della prima partita ufficiale? La risposta è legata ad un unico fattore, lo sviluppo in termini di risultati della stagione non solo dei sipontini ma anche degli avversari. Non è detto infatti che il collettivo del presidente Giuseppe Di Benedetto giochi altre partite casalinghe sino al termine della nata agonistica 2022-2023 dipende dal proprio rendimento ma non solo, anche e soprattutto da quello delle antagoniste. L'undici Gargano infatti potrebbe teoricamente ancora evitare gli spareggi del Gironela di Eccellenza ed accedere direttamente allo spareggio secco in campo neutro per la promozione in Serie D contro chi la spunterà poi nei play-off dell'aggruppamento sud. Per riuscirci però deve necessariamente negli ultimi 90 minuti di regular season portare il margine di vantaggio sul Biceglie ora più 8 ad 11 punti e per farlo c'è una sola combinazione possibile di risultati. La capolista Manfredonia deve vincere al San Sabino sul campo del Canosa e sperare in una contemporanea battuta dal resto del Biceglie seconda in gradatoria al comunale di Capurso contro il Mola. Realtà anche lei insieme al Corato in lotta per un piazzamento play-off nell'ultimo turno di questo campionato. Gli incontri si disputeranno domenica in contemporanea a partire dalle ore 16.30. Se la missione sipontina non dovesse andare in porto dunque la squadra di Pasquale De Candia giocherebbe in casa la finale degli spareggi del proprio girone e lo farebbe proprio al Miramare. Lo si saprà domenica prossima al termine delle partite della giornata conclusiva. Per il momento i sipontini dopo un'intera stagione trascorsa girando tra i campi di Monte Sant'Angelo, Apricena, Trinitapoli e Molfetta possono godersi finalmente la propria casa almeno per gli allenamenti.